Ciao ragazzi, ci sono dei mostri che hanno paura del buio. Uno di loro è il serpente luminoso. Per farlo ci servono una torcia, plastilina blu, arancione e gialla. Cominciamo arrotolando un grande salsiccione di plastilina. Poi lo avvolgiamo attorno alla torcia. Il serpente luminoso è un mostro marino, ma ha paura degli abissi. Facciamogli un musone fifone. Facciamo due mezzelune un po' tozze e le mettiamo una sopra e una sotto. Tiro gli angoli col pollice per unirle. Poi rifinisco bene tutto il corpo. Ricordatevi di non coprire l'interruttore. E ora mi serve un attrezzo davvero scultore. Con la punta facciamo i buchi del naso, ma tiriamo verso l'alto per farli come quelli di un coccodrillo. Gli occhi sono due fori. E sul fianco facciamo le branchie per respirare sott'acqua. Con la plastilina gialla e arancione possiamo fare un sacco di dettagli. Prima due occhi tondi. Poi una cresta sulla testa. Basta fare una striscia e poi dare dei pizzicotti per sollevare le creste. Poi prendete dei pezzettini di plastilina e strisciateli sul serpentone seguendo la forma arrotolata. La plastilina gialla La plastilina gialla Ecco faccio... e ora non ci resta che accenderlo seguite la luce vi porterà all'officina dei mostri ciao